Ciao a tutti i videolettori del Capoluogo, ben trovati al nuovo appuntamento con Grandangolo, la rubrica con la presunzione di parlare di politica, ma non solo, e comunque oggi continueremo a parlare di politica, in questi tempi d'altro canto ragazzi di cosa volete che si parli, siamo a pochi giorni dalle elezioni e noi affronteremo un paio di argomenti scottanti con un esponente politico di assurdo spicco, è un parlamentare della Repubblica che si ricandida al Parlamento alle prossime elezioni, parliamo dell'onorevole Luigi Dermo della Lega, onorevole ciao innanzitutto, salve e grazie per l'invito, grazie a te di averlo accettato perché insomma come capita a tutti quanti voi di questi tempi, i tempi scusate il bisticcio sono un po' stretti, quindi apprezziamo molto la tua presenza e la tua disponibilità, onorevole io ti chiedo così, parleremo anche di elezioni in attimo faremo un piccolo ragionamento, ma all'inizio vorrei avere una tua riflessione su un punto, noi ci troviamo di questi tempi in un momento, noi parliamo noi cittadini, noi comuni mortali, di fronte alla sensazione di un ordine mondiale un po' acciaccato, con dei modelli di sviluppo in via di revisione che almeno di un tagliando avrebbero bisogno, perché c'è qualcosa che non funziona, ci siamo trovati un po' di tempo fa di fronte a una crisi delle materie prime, di reperimento delle materie prime scatenata dal Covid, basti pensare ai problemi dell'automotive, dell'elettronica che mesi e mesi fa abbiamo cominciato a percepire e qui dicevo scatenata dal Covid, dalle speculazioni finanziarie che ne sono seguite, poi arriva questa bella guerra e ci ritroviamo oggi, veniamo ad oggi con la crisi energetica che ha accentuato, rendendo la drammatica, la condizione economica del nostro paese. Ma non è che siamo magari di fronte a un modello di approvvigionamento, di gestione, parlo di energia adesso, un attimo da rivedere, cioè tutta questa privatizzazione non è più esposta a speculazioni di carattere finanziario, sarebbe forse bisogno di modificare qualcosa, secondo te scusa? Domanda complessa ma contestualmente interessante, chiaramente veniamo fuori da due anni di pandemia che hanno di fatto bloccato anche una buona parte della produzione nazionale ed europea, quindi questo ha causato scarsa capacità di reperire materie prime sul mercato. Quando la situazione stava ripartendo è scoppiata questa drammatica guerra al cuore dell'Europa che chiaramente ha mandato in tilt soprattutto il sistema del rifornimento dell'energia, del gas e a pagarne direttamente le conseguenze sono la grande industria, le fabbriche, i commercianti, gli artigiani ma chiaramente anche le famiglie. Noi abbiamo un'idea ben precisa di quello che bisogna fare. Subito a ottobre una manovra, uno scostamento di bilancio da 30 miliardi di euro, almeno di 30 miliardi di euro, al pari di come stanno facendo anche altre nazioni europee per fare in modo che il costo delle bollette per le famiglie e per le imprese non aumenti e quindi 30 miliardi necessari ad abbassare il costo del gas e dell'energia elettrica, anche perché rischiamo che molte di queste imprese possano arrivare anche a chiudere, a fallire, quindi dobbiamo assolutamente evitare che questo accada. E contestualmente l'Italia deve necessariamente aprire una pianificazione rispetto all'autonomia energetica che renda il sistema paese autonomo dagli altri stati, quindi iniziare a ragionare sulla realizzazione del nucleare di quarta generazione sicuro, pulito e che possa rendere, se non totalmente ma quasi totalmente, l'Italia autonoma da qui a X anni rispetto alla produzione energetica. Non possiamo dipendere da altri stati e credo che l'autonomia nella produzione energetica renda il paese più forte, sicuramente lo metta in sicurezza, così come mette in sicurezza le famiglie e lo rende, come dicevo, più forte e più autonomo rispetto anche al mercato internazionale. Guarda, onorevole, io condivido tutto in buona parte quello che hai detto perché sono convinto anche io che senza un intervento economico pesante non si riesca ad abbassare il prezzo per le imprese e per i cittadini. Però ci sono alcune riflessioni che un attimo mi frenano, riflessioni, come posso dire, considerazioni portate avanti, se vuoi, da parte, non dell'opposizione, insomma, ma di alcuni partiti di centrosinistra che sostengono l'impossibilità di dover affrontare un ulteriore scostamento di bilancio, secondo probabilmente l'azienda Draghi, che io poi non ho ancora capito quale sia cosa sia, però, ma è colpa mia, nel senso che non me la sono andata a leggere, non voleva essere irriverenza nei confronti di Draghi. E ti dicevo, riflessioni, ma anche alcuni vostri alleati sostengono cose un po' diverse, cioè Berlusconi si allinea alla difficoltà relativa allo scostamento di bilancio, la Meloni addirittura dice, se facciamo lo scostamento di bilancio, altro non facciamo che agevolare e favorire gli speculatori che in questo momento vendono materia prima, per cui senza un tetto al prezzo del gas, sarebbero soldi infilati direttamente nelle tasche degli speculatori. Rispetto a questa cosa, che cosa risponde la Lega? Io so soltanto che a settembre-ottobre 25 mila aziende riscono la chiusura, oltre che migliaia, migliaia, centinaia, migliaia di famiglie non potrebbero far fronte al pagamento delle bollette. Altri Stati europei, che hanno una solidarietà pari a quella dell'Italia, se non ne ha maggiore, stanno operando con gli scostamenti di bilancio per abbassare il costo dell'energia, il costo delle bollette per i propri cittadini. Sarebbe una follia non fare un'operazione analoga in Italia. Del resto non stiamo parlando di un ipotetico debito cattivo, ma stiamo parlando di un debito buono, cioè nel senso un indebitamento per favorire l'economia del sistema produttivo italiano e delle famiglie italiane. Pensate a cosa potrebbe accadere se migliaia di aziende fossero costrette a chiudere o migliaia di famiglie fossero costrette a versare in una condizione di impossibilità a far fronte al pagamento delle bollette. Questo produrrebbe una condizione di passività economica di gran lunga superiore allo scostamento di bilancio che noi proponiamo. Quindi sono convinto che come centrodestra faremo questa manovra. 30 miliardi, ne abbiamo fatte diverse durante la gestione del Covid, proprio per garantire stabilità economica. Si tratta di un debito buono e dobbiamo perseguire la salvaguardia dell'interesse nazionale. Del resto uno Stato deve muoversi come un buon padre di famiglia. Se tuo figlio ti chiede papà, mamma, ho fame, non gli puoi rispondere in attesa degli equilibri di bilancio. Cerchiamo di capire come dovremo affrontare la capacità di acquistare una fetta di pane. Devi dare delle risposte. Una rapina in banca. No, uno scostamento di bilancio. Le rapine in banca le fanno da altra parte politica. Non mi riferivo a questo. No, 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 soltanto per precisare. E credo che la storia, anche in questa regione, abbia segnato per alcune pagine indelebili di vergogna politica. Ascolta, onorevole, finita questa piccola analisi, veniamo un po' alle elezioni politiche. Io, da cittadino comune, ho la sensazione che si sia di fronte a una campagna elettorale molto strana. Molto strana perché la Torre è una campagna elettorale con pochissimi contenuti, pochi contenuti, molti slogan, ma soprattutto, soprattutto, un'aggressività da tutti contro tutti inusuale. Non registri la stessa... Ma io sono concentrato, la Lega è concentrata, noi siamo concentrati sulla nostra campagna elettorale, sulla nostra proposta politica, legislativa, amministrativa, che offriamo chiaramente all'attenzione dell'opinione pubblica, ai nostri simpatizzanti, ma comunque agli elettori in generale. Noi non abbiamo polemizzato con qualcuno, le solite frasi violente che evocano scenari cupi sono tutte ascrivibili alla sinistra, che è in fortissima difficoltà e credo anche nel caos più totale, da un punto di vista non solo dei contenuti, ma soprattutto della linea politica. Io so soltanto che come Lega Abruzzo abbiamo fatto quasi 100 incontri pubblici in 25 giorni, mancano 7 giorni, 6 giorni alla fine della campagna elettorale, 5 al silenzio elettorale e ne abbiamo programmati altri 30 e ovunque siamo andati abbiamo parlato della nostra proposta, flat tax, meno tasse, più sicurezza, quota 41, nucleare di quarta generazione, rilancio economico delle aree interne e abbiamo cercato di trovare sempre una perfetta sintesi tra la proposta nazionale e la trattazione di questioni che riguardano più squisitamente le parti del nostro territorio regionale. Quindi è stata una bellissima campagna elettorale quella della Lega e sono soddisfatto perché ci sono arrivati tanti contributi di idee che hanno evidentemente dato anche a noi la possibilità di arricchire e perfezionare al meglio la nostra proposta. Il centrodestra stando al sentire comune pare stia marciando, non voglio dire trionfalmente perché potrebbe essere esagerato, è anche malaugurante, però diciamo che è comunque accreditato di una vittoria molto molto probabile. Dall'altra parte, dal centrosinistra, dai 5 Stelle, comunque dagli altri soggetti politici non afferenti alla vostra coalizione arrivano però continue speculazioni sulle voci, sui rapporti all'interno della maggioranza, per esempio Berlusconi che esce una mattina e dichiara, state attenti perché se no la Meloni che risponde a Salvini, Salvini che comunque io lo considero una dialettica e una dinamica assolutamente normale all'interno di una coalizione, ma forse perché ha avuto qualche esperienza politica, quindi insomma di queste cose un pochettino ne mastico, ma il cittadino comune resta un attimo confuso, diciamo confuso. Lei, tu, domanda secca, ma come vanno le cose con la Meloni? I rapporti all'interno della coalizione sono rapporti assolutamente stabili, di stima reciproca, di fiducia reciproca e di collaborazione totale, del resto abbiamo lavorato sul programma del centrodestra, abbiamo condiviso tutti i punti con mesi di lavoro e di sviluppo di quella che dovrà essere la nuova visione del sistema paese e su quello siamo tutti uniti e tutti perseguiamo l'obiettivo. Poi ci possono essere su temi specifici delle sensibilità diverse, ma complessivamente è una coalizione assolutamente coesa, stabile ed è l'unica coalizione che potrà dare un governo certo e duraturo che duri cinque anni al paese. Non prendiamo chiaramente lezioni dalla sinistra che pur perdendo tutte le elezioni negli ultimi undici anni ha governato per quasi otto anni e mezzo su undici da opposizione, raggiungendo le postazioni di governo attraverso giochi di palazzo, inciuci e quindi credo che sia giunto il momento che definitivamente gli italiani possano dare liberamente una maggioranza alla nazione. Quindi sono assolutamente sereno e sono convinto che il centro-destra darà prova di grande compattezza e di grande capacità di governo. Luigi, noi siamo praticamente quasi arrivati, perché vedo anche i tuoi collaboratori al di là del vetro che si agitano perché probabilmente hanno un po' fretta, avrai altri impegni e mi minacciano, mi stanno minacciando fisicamente, quindi io tra pochissimo ti lascerò al proseguito della tua campagna elettorale. Però 30 secondi per un appello al voto, perché un cittadino abruzzese dovrebbe votare Lega? Perché la Lega ha dimostrato in questi anni, dove governiamo comuni, province e regione, grande competenza, grande capacità di ascolto, grande capacità nella soluzione dei problemi e soprattutto abbiamo applicato il principio della politica della concretezza. Dovunque c'è la Lega i problemi si risolvono e soprattutto abbiamo cancellato un vecchio modo di fare politica che era legato esclusivamente alla raccomandazione, allo spingere l'amico e a offendere il nemico. Noi abbiamo garantito che le istituzioni tornassero a recitare il ruolo delle istituzioni e in più la Lega ha dimostrato anche in questa circostanza, in questa campagna elettorale, nella composizione delle liste, di essere il partito degli abruzzesi. Siamo l'unico partito, e sottolineo l'unico partito, che nelle liste proporzionali ma anche maggioritarie di Camera e Senato ha candidato tutti abruzzesi e siamo l'unico partito che ha dato la possibilità a ogni provincia di poter eleggere un diretto rappresentante, a differenza di altri che hanno fatto scelte diverse, magari accettando catapultati da altre regioni. Quindi io credo che soltanto la Lega possa dare quel contributo maggiore affinché l'Abruzzo abbia una decisa e sostanziosa rappresentanza nei due rami del Parlamento. Onorevole, grazie, ti posso, ti lascio, ti metto in libertà, hai licenza, hai licenza di andare, ne approfittiamo per salutare solo i nostri video lettori, vi ringraziamo per la pazienza e vi rimandiamo a un prossimo appuntamento con Grandangolo. Grazie. Ciao a tutti.